Sono Eris Aschi del Dipartimento di Fisioterapia del Perc Hospital a Soletta. Abbiamo messo insieme delle posizioni di sollievo che possono aiutarvi a respirare più facilmente. Alla fine del video vi mostriamo anche l'esercizio di respirazione, espirazione con le labbra succhiuse. Al letto può assumere la posizione a quattro zampe e cercare di calmare il respiro. I gluti possono rimanere in aria o appoggiarli sui talloni e se questo non è comodo metta un cuscino nella parte posteriore delle ginocchia. La testa può essere lasciata rilassata o posizionata sul materasso o sulle mani. Da seduto provi la posizione del cocchiere. Può appoggiarsi con le mani sulle cosce o sul bordo del letto. Oppure può sostenersi con entrambi gli avembracci sulle cosce mentre seduto su una sedia. Oppure provi a sedersi su una sedia girata, schienale verso il petto e si supporti con le braccia sullo schienale. È anche possibile supportarsi su un tavolo se non fosse possibile sedersi sulla sedia girata. In piedi si mette nelle posizioni del portiere appoggiandosi al muro. Forse preferisce stare in piedi contro il muro e sostenersi con gli avambracci. La testa l'appoggi contro il muro o sulle braccia. Oppure può appoggiarsi stando in piedi sullo schienale di una sedia o accanto a un lavandino. Ora arriviamo alla respirazione con le labbra socchiuse. Questo esercizio può aiutarla a calmare ed ad alleviare il respiro. Dopo la inspirazione profonda e lenta attraverso il naso, formi un piccolo spazio con le labbra e lasci fluire lentamente l'aria dalla bocca, senza premere. Assicurati che le guance rimangano rilassate. Un fazzoletto di carta può aiutare. Provi a soffiarlo via o a farlo svolazzare. Se ha problemi a formare un piccolo spazio con le labbra, può usare una cannuccia accorciata, ma non dovreste sforzarvi. Applichi spesso queste posizioni di sollievo ed il respiro con le labbra socchiuse, fino a quando le fanno bene ed ha la forza di farlo. Grazie a tutti.